Siamo a Roma in Stazione Termini, una viena produttrice di snack sta promuovendo il suo prodotto quindi con la degustazione gratis a tutti i viandanti che si trovano all'interno della stazione. Che cos'è? Ma posso avere una busta o qualche cruz per cortesia? Eh sì, quello, 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 sì. Grazie, grazie, buone, 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 grazie, grazie. E a me? Eh grazie. E a me niente eh? Signor, posso avere anch'io poco? Beh, ah grazie. Ecco, beh, questo in pratica entra in maniera molto, ecco poi riuscita ad avere il bicchiere, anche lui. Beh, quasi quasi. C'è questo uomo qui che sta osservando praticamente la scena e ha una mezza intenzione di avvicinarsi al carretto. E intanto è in attesa della figlia, ecco, che ha preso. Che schifo! E probabilmente non gli piaceva, eh chi lo sa insomma. E qui la coda ormai si sta... Eh, si, si, si è troppo acuda ormai. E non lo spingo per piacere, che cos'è? Con calma! Con calma tutti quanti l'avrete poi, non c'è problema, ce n'è di per tutti. Intanto la gente che continua a fermarsi per curiosità, legge il cartello comunque sul... sul lato destro del carretto. Ecco quella lavagnetta che si vede sulla destra. E' scritto appunto che questa azienda regala appunto una confezione che poi non è neanche una confezione, è un bicchiere con all'interno appunto un po' di snack, come assaggio infatti. Qui la gente si accolta. E praticamente dove c'è da mangiare gratis, va... Cioè, si forma veramente una bella fila. L'importante è che si mangia gratis. Sì. Ecco qua. E qui poi dice... Quasi qua, se pure io qui vediamo un poco di... di prendere un po' di qualche stuzzicchino, perché non si sa mai... da talura pure... ma questo no... si sta facendo una bella scorpacciata, poi è già passato per ben due volte... a fare gli assaggini. Buono, buono. Grazie, grazie. Buono, buono. Ecco qua. Buono. 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 Buono.